Nel quadro delle direttive impartite dal Comando Provinciale dei Carabinieri sulla scorta di indicazioni prefettizie, il nucleo radiomobile di Catania sta attuando un'intensificazione dei servizi di prevenzione dei reati in genere, con particolare riguardo inoltre al controllo della circolazione stradale al fine di garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada. A tal fine sono stati predisposti posti di controllo nei principali snodi viari con l'utilizzo di pattuglie dinamiche anche con l'impiego di motociclisti che nel periodo tra il 15 e il 28 marzo hanno portato alla contestazione per una somma complessiva di oltre 55 mila euro di 74 infrazioni al Codice della Strada. Nel corso dell'attività di perlustrazione nel popoloso quartiere di San Giorgio poi l'equipaggio di una gazzella transitando in via del potatore ha notato la strana presenza di tre autovetture con altrettanti uomini intenti a confabulare tra loro. I militari hanno quindi arrestato la marcia della loro autovettura ma i tre appena notata la loro presenza si sono dati alla fuga a gambe levate tra la vegetazione circostante. L'ispezione delle auto ha però ben presto svelato il motivo della reazione dei fuggiaschi perché esse infatti erano stracolme di arance appena rubate per un peso complessivo di circa tre tonnellate di cui però non è stato possibile risalire a legittimo proprietario motivo per il quale sono state donate a enti di beneficenza. Tuttora invece sono in corso le indagini per risalire all'identità dei tre fuggitivi le cui autovetture risultano essere state cancellate dai pubblici registri per rottamazione.